ciao da sergio di comicasa oggi mi rivolgo a te che hai da vendere un appartamento termo autonomo a novi libere interessa ad un nostro ottimo cliente purché sia di recente costruzione massimo 20 anni ed abbia almeno due camere da letto ed il box auto il suo budget è di circa 160 180 mila euro non fa molto ed è pronto ad acquistarlo hai un appartamento a novi ligure con queste caratteristiche e lo vuoi vendere chiamami e prendi un appuntamento potresti già avere il tuo acquirente e per me sarà un piacere fare la tua conoscenza ciao comicasa immobiliare un altro pianeta